Caro Presidente Zelensky, cari cittadini ucraini, vi faccio i miei più sentiti auguri per la vostra festa nazionale. L'amicizia tra Italia e Ucraina è forte e si è rafforzata ulteriormente dopo la brutale invasione da parte della Russia. Il vostro coraggio, il vostro desiderio di vivere in un Paese libero e sovrano, il vostro attaccamento ai valori europei sono fonte di ispirazione per tutti noi. L'Italia è vicina al vostro popolo, alle famiglie delle vittime, ai milioni costretti a fuggire. Dall'inizio del conflitto gli italiani hanno accolto migliaia di vostri concittadini nelle proprie case, con calore, con affetto, con generosità. Il nostro governo vi ha fornito e continuerà a fornirvi sostegno politico, finanziario, militare e umanitario. Vogliamo aiutarvi a difendervi, a raggiungere una pace e duratura nei termini che riterrete accettabili. Ringrazio le autorità ucraine per aver contribuito a trovare una soluzione per sbloccare le esportazioni di grano dai porti del Mar Nero. L'accordo raggiunto è un primo importante passo per garantire la sicurezza alimentare mondiale. Come ho detto durante la mia visita a Kiev, ricostruiremo tutto insieme. Continueremo a essere al vostro fianco in questo cammino. Auguro a tutti voi una buona festa nazionale.